Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Prima di venire in Pagliarola, c'è una sordiente di acqua, di sentire i peci che diceva. Era un pastor, un pastor che mi diceva se è bene a piegare, se è bene a piegare, se è bene a piegare. La domanda era sotto e si chiamava Bordone. Allora la domanda al signor, diceva no, diceva per me, ma per le mie piegure. L'acqua? L'acqua. Prima di venire in Pagliarola, la montana di Bordone.